Buongiorno a tutti voi e ben ritornati. In questo video vi presentiamo una serie di punte in acciaio HSS. Sono 18 punte. Si va da punte molto sottili da 0,5 mm sino alla punta più larga che ha un diametro di 2 mm. La caratteristica di queste punte è che sono lunghe 10 cm, quindi sono punte molto lunghe per lavori di precisione, il materiale è acciaio HSS e tra un impiego nel modellismo per lavori di creatività e per lavori di precisione. Quindi punte lunghe 10 cm con un diametro minimo da 0,5 mm e uno massimo di 2 mm. Qui vedete la punta più piccola, molto sottile. Grazie per l'attenzione e iscrivetevi al nostro canale se volete. Grazie e buona giornata. Grazie.